Una serata, buon viaggio da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini in studio. Numerosi disagi su strade e autostrade in Toscana al momento causati anche dalle avverse condizioni meteo. C'è nebbia segnalata sulla Fipilì tra Santa Croce e lo svincolo d'Arsena. Piove in A1, il tratto compreso tra Valdarno e Chiusi-Chianciano. Rimaniamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra la Strassigna e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Firenze. Code in A1, il traffico intenso all'uscita di Firenze Sud provenendo da Bologna. Passiamo ai viali di Firenze, traffico intenso, via Guido Monaco, via dei Redi, via Belfiore, via Milton, via Vestrozzi, via Fratelli Rosselli. Passiamo alle statali sulla Bistiberina, la E45, uno scambio di carreggiata per lavori tra Vergherito e Canili in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi.